Quello che vedremo oggi è un tutorial diviso in diverse fasi su come progettare un compito autentico che sfrutti la strategia del Flipped Learning a distanza, utilizzando però anche il software di programmazione sviluppato dall'MIT, il Massachusetts Institute of Technology Scratch. Questo tutorial ci permetterà di utilizzare al meglio la scheda di procedura Flipped Learning con Scratch, che trovate linkata qui sotto, e di partecipare alla challenge per la produzione di compiti autentici inerenti all'argomento scelto da voi. Seguite step by step le procedure.